Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo della Nescaffè Dolce Gusto Krups Piccolo XS. Questa macchinetta del caffè dalle piccole dimensioni è alta solo 28 cm, profonda 27 cm e larga 14 cm per un peso di circa 2 kg e sarà quindi molto facile trovarlo un posto nella propria cucina o in ufficio. Il design è elegante e moderno con una silhouette curva. Il piccolo XS è una macchina da caffè base le cui caratteristiche sono praticamente limitate a un'opzione di bevanda calda e fredda e per questo è incredibilmente semplice da utilizzare. Basta riempire il serbatoio dell'acqua, posizionare una tazza sul vassoio, aprire il cassetto capsule, inserire una capsula e attendere che la stia rossa diventi verde. Una volta pronta, in circa 40 secondi, basterà muovere la leva e scegliere l'impostazione calda o fredda. Attendere ancora circa un minuto, dopodiché l'acqua scorrerà nella tazza. Attenzione perché questa macchinetta non possiede l'arresto automatico e l'erogazione deve essere gestita manualmente. Occorre quindi controllare la macchinetta, cronometrare il flusso della bevanda e fermarlo quando si pensa che abbia raggiunto un volume ideale. Grazie alla comoda funzione Eco Mode, Nescafe Dolce Gusto Piccolo XS si spegne automaticamente dopo un minuto di inattività. La capacità del serbatoio dell'acqua è da 800 ml e la pressione massima della pompa è di 15 bar. Infine, questa macchinetta è facile da pulire e il serbatoio e la vaschetta raccogli gocce sono semplici da rimuovere e reinserire. Potete trovare Nescafe Dolce Gusto Crups Piccolo XS su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima!